Allora, buongiorno! Vi ricordate che avevamo messo un post su Facebook dove vi chiedevo alcune domande perché tante volte me li mettete sui post tutte separate? Oggi facciamo un video dove rispondo a un po' dei vostri quesiti interrogativi. Allora, cominciamo con Monica che mi chiede quando usciranno i progetti di Natale. Quindi i progetti di quest'anno, siamo nel Natale 2018, usciranno in concomitanza con le fiere. Partiremo con Roma a fine settembre, quindi ci sarà Roma, Bergamo, Vicenza, Firenze e Napoli. Queste sono le fiere e i modelli usciranno ovviamente, speriamo con Roma perché è la prima volta che la facciamo a fine settembre. Quindi in teoria così tutti anche voi che non potete venire nelle varie fiere potrete vedere i cartamodelli. E saranno sul sito www.country-creation.it troverete tutta la nuova collezione. Ioana mi chiede, grazie di tutto e dei bellissimi video, vorrei sapere come si fa la barba di Babbo Natale. Ci sarà il video, ovviamente più vicino magari al Natale. Adesso in piena estate l'abbiamo già fatto. Non mi ricordo quando sarà in programmazione ma ci sarà anche quello. Allora Barbara, ciao Federica, volevo prendere la termoadesiva hit and bond rossa che ho visto nel tuo video. Ma mi è venuto un dubbio, ho visto che la confezione c'è scritto che poi non si può cucire. Quindi se volessi aggiungere dei punti a mano per delle decorazioni. Allora, termoadesiva ce ne sono tanti tipi. Io uso l'hit and bond che è la marca. Uso quella rossa perché incollo tutto, quindi è quella che tiene più colla. La rossa cosa succede? Sì, in teoria non si potrebbe cucire. Se voi andate sopra a cucire la macchina succede che l'ago si impattacca con la colla. Ci sono altre termoadesive sempre di hit and bond. Quindi c'è la lilla, c'è l'azzurra, cambiano i pesi. Io non cucendo, voi vedete che la termoadesiva io vado solo poi a stirare, e quindi uso quella rossa. Però a mano riesco a cucire anche quella, ecco non cucite la macchina. Chi vende l'hit and bond rossa avrà anche l'altra. Chi la vende, i negozi che fanno patchwork, ormai ce l'hanno anche le mercerie. Quindi l'importante è che sia biadesiva. Perché tante volte uno va in merceria e le chiede la teletta adesiva, ma è adesiva da una parte, quella che usano le sarte. A noi interessa che sia da tutte e due. Quindi, te bond rossa, se la vuoi cucire a mano, ce la fai. Rimane un po' più dura quando tu vai a metterla sul tessuto. Rimane un po' più dura perché la colla è tanta. Ti consiglio magari quella azzurra. Allora, Fede mi fa una diretta. Ecco, io le dirette non sono mica tanto, perché c'ho dietro l'Alessandro che taglia tutte le cazzate. Quindi è meglio che ci vediamo così, che così almeno mette a posto. Eh, ci siamo capite. Loredana, i primi lavori piatti, grazie al tuo tutorial, sono venuti carini. Sono felice. Il carini dipende dalla poca abilità. Allora, sì. Sì. Io lavoro tanto, quindi di progetti piatti ne ho fatti veramente una quantità industriale. Più andate avanti, più vedrete che quando andate sotto macchina sarà più semplice, come mettere a posto la macchina da cucire, come risvoltare, dove fare i taglietti. Tutte queste cose, man mano che lavorate, ovviamente vi aiutano. Magari vi tirerò fuori qualche bel oggettino di quelli messi in cantina, che erano i primi, perché non è che uno nasce imparato. Però, piano piano, vedrete che tutto migliora. Allora, a brindisi non verrai mai. Eh, per adesso no, Carmela. Se mai un domani faranno una fiera, eh, così, una bella fiera a brindisi, perché no? Magari vengo anche a brindisi. Allora, Samantha, che tessuto usi per i tuoi lavori? C'è un tipo particolare? Allora, questo me lo chiedete davvero tanto, tanto, tanto. Io uso tessuti d'abbigliamento. Allora, ciò non toglie che potete usare il cotone. Però, adesso sparisco un secondo ritorno, vi prendo qualche esempio di tessuto e vi spiego meglio. Allora. Cucu! Quindi, quando io scrivo jersey, il jersey è quello che mi piace di più per fare la termoadesiva. Il jersey è quello delle magliette. Questo è jersey. Io amo il riciclo. Il tutto è nato così, perché entravo nel mio armadio, aprivo le ante, quello che non mettevo più, mi dispiaceva buttarlo via e lo utilizzavo. Quindi, il jersey è questo qua. Ok. È un po' elastico. Con la termoadesiva, però, vi rimane, perde l'elasticità. Quindi, potete usare tutto. Amo le tinte unite, perché sono io che vado magari a sfumarle, a farle le ombre con gli ombretti. E con le fantasie, non si vede la sfumatura, per quello che uso le tinte unite. Quindi, su quello che è il jersey, ve l'ho raccontato, altri tessuti che uso, quali sono? Maglia. Questa è una maglia. Vedete che ha proprio la trama dei maglioni. Quindi, mai buttare via i maglioni quando si fa il cambio dell'armadio. Anche perché, in genere, la parte della schiena è sempre buona, è sempre nuova. E quindi si utilizza. Questa qua è una maglia un po' più fina. Vediamo. Ok. Un po' più fine. E quindi, questo è quello che utilizzo. Silvana mi chiede, volevo sapere che materiali sono i tuoi orsetti, cagnolini, eccetera. Allora, il pile è quello che preferisco, perché è un po' elastico, ma non troppo. Non amo il feltro quando faccio gli animali, perché il feltro non è elastico, quindi rimangono proprio rigidi. Van bene anche le pelliccette d'abbigliamento, perché no? Quindi, dietro tutte le pellicce d'abbigliamento, dietro sono telate e quindi potete tranquillamente cucirle a macchina. Non sono male. Soprattutto sotto carnevale si trovano magari a prezzi buoni le pelliccette. e questo qua può essere. Però il pile è la cosa che preferisco di più da usare per gli animaletti. Poi, se avete delle domande un po' più particolari sui tessuti più specifiche, fatemele, perché io non so cosa raccontarvi sui tessuti. Ad esempio, il corpo uso un tessuto di cotone normalissimo. Il cotone è proprio da lenzuola. Risparisco un attimo, aspettate un attimo. Così vi faccio vedere il cotone. Questo qua è proprio cotone, cotone. Certo non si vede solo un fenomeno a fare i video, però fa niente. È un cotone che non è elastico. Perché non lo uso elastico? Perché quando vado a imbottire, voi, io, il cartamodello che disegno lo voglio pari pari al mio disegno. Con la maglina mi si ingrandisce e io non sono capace. cioè non le ho mai fatti e non sono capace. Idem per le teste. Perché non sapendo dipingere le facce, io non uso pennelli, come avete visto, io uso le penne, sul cotone è una cosa dove mi è più gestibile. Quindi da qua è nato il tutto così ed è rimasto così negli anni. Il colore del cotone non amo il bianco, può essere panna. Io lo faccio tingere è solo un colore vicino al tè. Se non avete un colore che vi piace, prendete tranquillamente anche un lino, i vecchi lenzuoli di lino della nonna ma è buttarli via. Prendete un lino, fate un bel tè con le amiche e intingete. Allora, quando fate il tè, in genere io faccio una bacinella di acqua calda perché è carino anche per fare le cose che sembrano invecchiate. Bacinella di acqua calda, faccio un tè molto carico lo colo nel catino dove ho messo quest'acqua però lo colo sul colino perché è la polverina del tè quella che magari macchia il tessuto. Tenetene un pezzettino fuori perché sembra ma rimane molto carico il colore quindi in un attimo potete avere il tessuto colorato e quella può essere un'alternativa se voi non trovate il tessuto del colore giusto. Quindi, oddio che caldo, aspetta eh, dove siamo arrivati? Antonella mi dice ho preso i cartamodelli per provare fare l'angioletto e l'angioletta probabilmente quelli piatti che abbiamo messo in omaggio perché quando ci sono magari qualche cartamodellino in omaggio andate sul sito c'è proprio la categoria di quelli gratuiti però trovo difficoltà quando una volta assemblato le varie parti devo posizionarle su feltro cartone quale è meglio? Al momento di ritagliare non mi viene mai bene allora io non ho capito molto bene questa domanda Antonella eventualmente rifaremo un post come l'abbiamo fatto solo per avere tutte le vostre domande a portata di mano tutte insieme vicine se voi avete delle domande mandatemi dei messaggi privati che ogni tanto magari facciamo questi video un po' così così vi rispondo in questo modo ecco Antonella rifammi questa domanda io te lo spiego perché non ho capito se tu in termo adesiva su cartone o sul ecco Tiziana ciao Federico richiedere come posso acquistare la squadra dei capelli allora la squadra sarà in vendita con le madonna che caldo con le prime fiere quindi la prima fiera è Roma da fine settembre 2018 poi magari chi vede il video nel 2020 le squadre sono già da mo la potrete acquistare o da me nelle fiere quindi noi nello stand avremo tutte le due squadrette adesso ve le faccio rivedere oppure da in tutti i negozi che rivendono i prodotti di www.creativesrl.com quindi anche loro lo avranno dopo la fiera di Roma di fine settembre quindi o andate direttamente da creative ve la spediscono chi ha la fortuna di avere un negozio vicino potete andarle acquistare e se no chiedete creativa qual è il negozio vicino a voi andate a prendere le squadrette ve le faccio vedere allora questa sarà la grande bello con questa luce fantastica comunque 35 cm la grande e questa sarà la piccinina e queste qui sono le due squadrettine che andrete a trovare allora come si tira giù quel computer qua che mezzo mi abona grazie Tiziana ah no Tiziana se te le squadrette ve l'ho detto Giuseppina ciao Federica volevo utilizzare i tuoi cartamodelli in termo adesiva per realizzare cose con tecnica dell'applico che poi andranno lavate quindi gli asciughini eccetera cosa utilizzare per fare le sfumature al posto degli ombretti che in tal caso svanirebbero con il lavaggio e questo è interessante allora io non faccio lo dico sempre cose che vanno lavate quindi il problema non c'è uso gli ombretti però in commercio ci sono dei pigmenti allora questi pigmenti voi chiedete comunque a Creativa loro possono procurarveli loro li hanno questi pigmenti sono in polvere sono delle micropolveri sono fatti apposta per i tessuti a differenza dell'ombretto che è fatto per noi e poi ci sono dei fissativi allora questi fissativi che vanno pennellati sopra vi permettono di non perdere il colore una volta che andate a lavarlo ovviamente se andate a lavarlo dovete cucirlo quindi ricordatevi di usare la termoadesiva giusta o l'appliqué doppiato perché tutti i cartamodelli che nascono per la termoadesiva voi potete farli in appliqué cucito e doppiato potete utilizzarli in altri modi di lavoro in altri modi mi sono impapenata ma fa niente comunque volevo dirvi che tutti i cartamodelli che io faccio in termoadesiva potete utilizzarli poi per lavorare in un altro modo non so se anche con l'ombretto il fissativo ma credo proprio di no è meglio usare i pigmenti e il fissativo invece se dovete andare a pitturare una faccina ecco magari lì usare direttamente le penne per il tessuto dove le vendono queste penso direttamente nelle mercerie che fanno patchwork questi lavori qua sicuramente ce l'hanno però sono un po' abbronzatina adesso vedere dai primi video che ero bianca come un latticino Claudia vorrei imparare a fare le bambole in piedi ma non ho mai preso il cartamodello perché temo di non saperle realizzare allora faremo sicuramente un video di come sono fatte le strutture dove comprare i legni i legni io li compro al brico tanto per anticiparvi qualcosa le faccio io le strutture non c'è niente di pronto da comprare quindi al brico vendono già poi ve lo spiegherò bene dei prezzi dei pezzi di quelle misure che io uso per i piedi per le gambe per tutto e quindi basta che loro vi tagliano i pezzi poi se avete la fortuna di avere un marito che vi fa i buchi col trapano siete fortunate se no se avete un moroso come il mio che le dico mi fai due buchi mi ha regalato il trapano ho imparato a fare buchi e quindi tutto in casa però vi farò vedere come sono fatte le strutture che vista una le mie viste tutte ormai mi conoscete che il credo che il bello di questa cosa è che una volta che avete imparato a farne una avete campo libero poi a prendervi carta modelli perché bene o male le strutture cambiano le misure perché grande basso e tutto però in sé sono quelle lì io spero oggi qualche domanda l'abbiamo già abbiamo già risposto vi dicevo andate eventualmente sulla pagina di facebook che così però vi metterò magari un post ogni tanto o mandatemi messaggi privati con le vostre domande di modo che io riesco a rispondervi perché in fiera non ho mai il tempo perché facendo le dimostrazioni non riesco mai a fermarvi mi fate domande su domande su domande io tento in tutti i modi di rispondervi quando non rispondo è perché davvero non le vedo e quindi niente spero di esservi stata utile e al prossimo post di risposte ciao alla prossima e visto che andrà d'estate buone estate e buone vacanze ci vedremo al prossimo video ciao